Gloria Santinelli è la Presidente dell'Associazione Giovine Idea di Mugliano che ha organizzato il convegno sul rifiuti zero. Partendo da questo punto fermo, rifiuti zero che non è un punto di partenza ma dovrà essere un punto di arrivo, voi avete elaborato un progetto che va un po' per punti. Partiamo dal punto principale che è uno dei punti principali, quello del recupero del materiale attraverso dei codici. Questa è una proposta che noi abbiamo fatto al Comune, quindi al Sindaco del nostro Paese, perché più che altro è per il risparmio, quindi oggi è la cosa principale su cui ci soffermiamo, nel senso che viene fatta la raccolta tramite dei sacchetti codificati e quindi si può risalire alla persona che ha gettato questo rifiuto e quindi cercare di migliorare sempre di più questa raccolta differenziata, di modo che venga fatta meno raccolta indifferenziata e quindi più facile da smaltire e a meno costo. Un risparmio anche per l'utente, per il cittadino? Sì, sì, giustamente. Il risparmio deve essere per il cittadino e anche a questo punto per il Comune in sé, nel senso che risparmia il Comune e di conseguenza paga meno il cittadino. Lugino Quarchioni, Presidente regionale Lega Ambiente, un'iniziativa che già dal titolo fa capire qual è l'obiettivo. Rifiuti Zero, dove si vuole andare? Provincia di Macerata, una bella eccellenza, una spinta verso Rifiuti Zero, ma le altre province regionali e comunque anche le altre regioni invece dove stanno andando? In assoluto la provincia di Macerata è il luogo più fertile, la provincia non solo riciclona nelle Marche ma riciclona nel centro Italia. Qui abbiamo nel 2011, dati 2011, 36 comuni che già superano il 60%, sui 50 è passata tutta la regione. Abbiamo invece una difficoltà soprattutto ai poli estremi, nel Pesarese e nell'Ascolano, dove invece stenta a partire la raccolta differenziata, stenta a partire la raccolta differenziata più spinta porta a porta come già c'è qui e lì abbiamo un po' di difficoltà in più. Però io penso che sia azzeccato fare anche un convegno sulla spinta verso Rifiuti Zero anche in un luogo che fa una buona raccolta differenziata, perché quello è il primo pezzo a raccolta differenziata, ma bisogna capire come ridurre i rifiuti. Sono stazionari le condizioni di salute di Sergio Emili, 65 anni, e Gina Sarachini, 63, i coniugi coinvolti venerdì mattina nel crollo della palazzina, in cui abitavano a Civitanova Marche in zona Fontespina. L'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola. I due coniugi, estratti vivi dalle macerie dopo un delicatissimo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova Marche, sono stati ricoverati all'ospedale regionale di Torrette di Ancona e sottoposti entrambi ad intervento chirurgico a causa delle lesioni riportate. Sarà comunque la magistratura maceratese a stabilire le cause dell'esplosione che hanno raso al suolo la palazzina di due piani. Una volta portati a termine i soccorsi, gli inquirenti hanno acquisito una bombola e una cucina a gas per poter eseguire gli accertamenti. Proprio dalla bombola dovrebbe essere partita la fuga che ha generato l'esplosione. In base ai controlli effettuati dai vigili del fuoco non ci sono pericoli per le abitazioni circostanti. Il sindaco Tommaso Corvatta e l'amministrazione comunale hanno garantito pieno sostegno alla famiglia Emili, che si è impegnata a favorire il pieno ritorno dei due coniugi ad una vita normale. Le principali problematiche dei giovani e il loro contributo alla crescita e alla coesione della comunità sono state al centro dell'incontro tra la Giunta regionale e la Consulta regionale dei giovani. Un primo appuntamento che ha visto la disponibilità dell'esecutivo ad accogliere le proposte e le istanze che perverranno dalla consulta, rappresentata dal Presidente David Buschittari e dei giovani componenti. Tra questi, rappresentanti delle università, delle scuole superiori, dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali, dei giovani amministratori comunali e provinciali, delle formazioni giovanili dei partiti politici e dei giovani imprenditori. La consulta offre l'opportunità di creare un'opinione tra il mondo giovanile sul territorio e la Giunta regionale, che potrà interpretare al meglio le proposte e le idee. Tra le misure illustrate nel corso dell'incontro dalla Giunta, la stabilizzazione dei contratti dei giovani precari, gli incentivi per le aziende che assumono under 35, gli incentivi all'assunzione di giovani laureati e diplomati nelle micro, piccole e medie imprese marchigiane, per il supporto ai processi di internazionalizzazione, la riforma dell'apprendistato, il prestito d'onore regionale, l'iniziativa Adotta un giovane, i voucher per master universitari. Tra le tematiche correlate, i bandi per l'edilizia agevolata, l'accesso al credito, il servizio civile regionale e l'ampliamento della rete degli informa giovani, che grazie al portale garantirà la visibilità di tutte le iniziative regionali a favore dei giovani. L'esecutivo ha auspicato la necessità di trovare una prassi di confronto, come rilevato dall'assessore alle politiche giovanili Paolo Eusebi, per cui viene ora attivata una metodologia di confronto per la rappresentanza dei giovani. Periodicamente la Giunta dedicherà una seduta dei lavori al coordinamento degli interventi sulle politiche giovanili.